Quattro premiati importantissimi che hanno rappresentato e rappresentano il modo di vita abruzzese nel mondo, due delle regioni d'Italia e due di paesi fuori d'Italia. L'Abruzzo ha quattro nuovi ambasciatori nel mondo. Si è rinnovata infatti lo scorso 3 agosto a Tagliacozzo la cerimonia istituita per legge dal Consiglio regionale, con la quale si è reso omaggio ai meriti e personalità abruzzesi che si sono distinte in campo internazionale. I riconoscimenti sono andati alla professoressa e scrittrice aquilana Laura Benedetti, che ha sottolineato il suo legame con la regione di nascita. In Abruzzo torno in genere una volta all'anno ma per periodi abbastanza lunghi e poi a volte ho portato i miei studenti della Georgetown University per fare dei programmi di studio e ho anche organizzato un paio di convegni dopo il terremoto aquilano per cercare di mantenere vivo l'interesse per la città e per la ricostruzione. Quindi sono questi i motivi che mi portano in Abruzzo, a parte i motivi personali proprio di attaccamento, familiari, di amicizie. Tra i nuovi ambasciatori d'Abruzzo anche il professor Roni Pedro Colanzi, medico patologo in Bolivia, che ha dedicato il suo premio a tutti gli abruzzesi boliviani. Questo è molto importante per tutta la persona che proviene dai pionieri dell'Abruzzo in 1954, di Basto, di Furci, che arrivano in Bolivia a formare diverse famiglie, noi a lavorare nell'agricoltura e in altre attività. E' toccato poi ricevere riconoscimento di ambasciatore allo scienziato climatologo sul Monese, Filippo Giorgi, che continua a intrattenere rapporti scientifici e culturali con l'Abruzzo. Sono sempre rimasto in contatto in realtà con la mia università, che è l'Università dell'Aquila, dove mi sono laureato ormai nel lontano 1982, però da sempre ho mantenuto delle collaborazioni con un gruppo di climatologia dell'Università dell'Aquila, che è un gruppo tra l'altro molto attivo, che ha partecipato anche a molti eventi internazionali, organizzazioni internazionali, quindi anche come parte di queste collaborazioni io torno abbastanza periodicamente in Abruzzo. Infine è stato il generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi ad essere insegnito del titolo di ambasciatore d'Abruzzo. originario di Chieti, Toschi e presente nelle fiamme gialle da quattro generazioni e ha collaborato in operazioni di polizia internazionale, ottenendo attestazioni di merito dall'FBI. Il consueto riconoscimento speciale è andato invece a Michele Sieri Marco, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo Molise, per il suo profondo attaccamento affettivo e professionale con l'Abruzzo. Un premio a sorpresa è stato infine consegnato al professor Goffredo Palmerini per il suo impegno nel mantenere vivi i rapporti tra l'Italia e le comunità abruzzesi nel mondo. Il presidente Giuseppe Di Pangrazio è stato affiancato nelle celebrazioni dal consigliere segretario Alessio Monaco, dal consigliere regionale Mauro Febbo, dall'assessore Lorenzo Berardinetti, dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e dal sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.